musica Ciao a tutti ragazzi con Lorenzo di Cipunta e ci troviamo qui in un nuovo video di Minecraftita Allora lo so che negli ultimi episodi ho fatto la figura di merda rimorendo tante volte Però sono solo dettagli perchè adesso si ho rilivellato un bel po' E allora ho trovato un punto abbastanza decente per farci la nostra casa perchè? Perchè finalmente ho trovato i divanti In questo episodio oltre a farci la casa perchè finire dobbiamo ancora iniziare Faremo anche il portale dell'end Però non so se ci giocheremo anche Quindi io direi iniziare subito uno stack quasi due di legno Quindi io volevo farlo più o meno a questo punto qua Così dopo scendevo e trovavo il laghetto Diciamo che siccome qua c'è un buco perchè il mio mondo è più di grandi Di cose strane Direi di farlo più o meno qua è più di notte Però siccome là vicino da me Piero di mostri Non sto neanche là a dormire E tanto Allora Direi di farla di Facciamo cinque No più di cinque cinque O che sto dicendo Facciamo così Possiamo provare a farlo Uno due tre Quattro cinque Lo facciamo di Dieci Sei Di lasciare stare Sette Otto Nove Dieci Questo Però non è un lato Sì Ok diciamo che una cosa così potrebbe andare bene Direi lasciare l'entrata di due Uno due Tre No Tre Quattro Cinque Sei No vabbè Sei Sei Sette Otto Nove E Dov'è che non muoio Dieci Ok Qui il dislivello si vede anche tantissimo Però Poi lo togliamo Allora Dieci per quanto Perchè io la voglio bella grande come casa Ecco No forse dieci è troppo Forse dieci è troppo Allora a sto punto direi di Mettere anche qua E vedere più o meno ad occhio Magari forse quindici va bene Uno due Tre Quattro Cinque Una cosa così potrebbe andare bene Proprio anche lo c'è a metà Quindi facciamo Quattordici Vedete tanto il cubetto sì Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette E quindi dobbiamo togliere il settimo di qua Il settimo di qua Ok questo praticamente sarebbe la larghezza Potrebbe andare anche bene Adesso bisogna fare Uno Due Un secondo Ok Allora Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Ehi sì Buonanotte C'è uno scheletro che ci rompe le scatole Ma qui è più Cioè È una cosa buona per Per le osso però È una rottura di palla ogni volta Quello è andato Non ne vedo altri Eccolo di là No no Raga Ce ne sono troppi Ce ne sono troppi Anche di là Ce ne sono troppi Torniamo in seconda casa E ci vediamo quando è giorno Ok raga Buongiorno Allora Il giorno è tornato Praticamente Ravagli basti qui Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Perfetto Allora qui Diciamo che larghezza Potrebbe anche No non ci sta no Io direi di dare Dieci Undici Dodici Tredici Quattordici Anche di larghezza No perché dopo sembra un quadrato La mia casa E non voglio questo Quindi facciamo Quindici Sedici E Perfetto Ok Sedici di larghezza va anche bene Quindi adesso Dobbiamo fare Quattordici di larghezza Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Se Se Non saltare Sei Se Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici E Quattordici E in teoria siamo giusti Se noi adesso andiamo di qua Dovremmo essere giusti Infatti Se abbiamo sbagliato Siamo dei geni Non è di qua Ma bensì Tu è più al lato Cioè qua Eh invece qua Che dovevamo arrivare Quindi adesso In teoria Si io metto qua 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 Ma perché sbaglio pure a mettere i cubi Cioè In teoria si io adesso Faccio così Ma perché si blocca Ok Allora stavo dicendo Se io adesso faccio così Non attivare lo scudo Ok Sono giusto Adesso devo soltanto scavare all'interno Ok Avevo addirittura finito la pala Praticamente Qui a scavare Da quanto ho scavato Che adesso non so Quanti cubi dovrebbero essere Ma basta fare una moltiplicazione Quindi Quattordici Per sedici E trovate i cubi Che ho dovuto scavare Più o meno eh Perché poi c'erano Quelli che non c'erano già E quindi No Scavate un po' di meno Come pavimento Non saprei cosa metterci Ma quello lo vedremo dopo Ok Perfetto Adesso che abbiamo scavato Tutta l'aria Ma proprio tutta Tutta Allora Per terra Io direi che ci starebbe bene Della cobblestone Perfetto Ne ho Allora A sto punto Scaviamo qua e qua E Mettiamoci Della cobblestone Che ci sta benissimo Dopo casomai Qui metto delle porte Qui si è già formata Della erba Che io non volevo Però è stato molto veloce A formarsi Questa è una cosa strana Ok Adesso Non so quanto alta Farla sinceramente Proviamo Forse di 4 Ecco Ho anche quasi finito Un stack Uno Due Tre Ma forse il tre Va anche bene Se io adesso Un secondo Lo metto qua Per fare la scala E provo a metterlo Così Vabbè Perdo di cuore Pazienza Mangiapaci un po' Ecco Ecco Sapevo Così è troppo alto Invece Appunto Come avevo detto Allora Togli il quarto E riusalo Di là Piuttosto Allora Uno Due E tre No Basta Uno Due Qua ci mettiamo Un altro Per salire Ok Una cosa così Ci sta tantissimo Soprattutto perché poi qua Chiudiamo così E qua ci sarà L'entrata Adesso Vieni a pensare Se fa Tutta in legno Oppure No Ok Questo è un problema Ho finito il legno? Sì Ho finito il legno Quindi andiamo a prendercene altro A chi è che serve un letto Quando c'è Quando stai costruendo una casa? A nessuno È ovvio Vabbè Tanto Ci serve Quindi lo lascio benissimo Lì E ancora una volta Il legno Non ci basta Vabbè Andremo a riprenderlo È il problema Che cavolo What the fuck Ah niente Sei proprio impegnato Per venire qui A prendermi Vero? Muori male Stavamo dicendo Prima di essere interrotti Che Qua Adesso Qui Non va bene Per niente La storia Perché Stiamo Per finire il legno Di nuovo Abbiamo solo 40 blocchi Cosa? E questo come c'è finito Qui sopra? Non ho capito Ma muori male Ah ecco come Col piccone Ammazziamo Gli zombie Sì Tutti qui a far festa Non ho capito Vai via Anche te muori Che fatica A far fuori Gli zombie Pratico Con questo piccone Ho preso i diamanti Vuoi che non riesca A far fuori te? Ah vedo che capisci subito Allora Stavamo dicendo Questo lato Ormai è finito Ok Adesso Voglio fare Tipo L'interno Così Le scale Vedrò dopo Dove metterle Per il momento Lascialo lì Aperto Eh dio Ma qua ci sono mostri Ovunque E che ho bloccato Lo spawner Poi sono andato in giro Per le altre grotte Ma non ho dato L'altro spawner Un altro scheletro E la madonna Entra Mi serve Questo Eh volevi Perché ci sei un po' Lì nel bel mezzo Del nulla Non ho capito Chi è che vuole Un bel po' di semini? Nessuno? Tu e tu Fate l'amore con Con i semi Basta che non diventate semi Perché se no Sono assai problemi Tanto qui stanno venendo fuori Un mare di uova Tutte per me Sì Però non nasce nessuno Come Dovevo Vedere Non è nato Fratellino Mi dispiace per i poveri polli Tu O cresci o muori Cioè due sono le cose Qui era esploso un creeper Molto tempo fa Ormai è giorno frate Io direi qua Di farci un ponticello No Raga Ho visto una strega Ero tipo Mi era caduto Della roba qui sotto Per sbaglio E per sbaglio Intendo sono morto Come Un pirla Cercando di fare Un ponte E adesso c'è una strega Che mi corre dietro Ok Non mi sta seguendo Almeno questo È quello che spero Io dovrei essere risalito Da lì Ok Che culo Non sono morto Anche se Non dovrebbe essere Lo stacker Anche se Il letto dovrebbe stare Nel secondo Nel primo piano Sorry Allora Mettiamo qua Qua Ok Sento già gli scheletri Che stanno arrivando Ok Una cosa del genere Può essere anche bella Il problema è Con cosa ricoprire Il tutto Perché con La legna Mi sembra Il quanto difficile Per quella che abbiamo Praticamente Niente Assi di quercia 47 orvi Sono un po' Pochini Stack Non è che stavo dicendo Il pavimento Lo stack Ovviamente Stavo dicendo Perché Ecco È proprio Un momento più bello Finisce Però Ne abbiamo altri 24 24 dovrebbero bastare Per finire Il pavimento Yeee Ok Sta cosa mi piace Poi volevo fare Una spesa Sì Sta cosa può andare Benissimo E magari Mettere Tipo qua Fare una cosa Del genere Secondo solo Prendere Una fornace Via Una bella Fornace Da mettere Proprio qui All'entrata Eh ma proprio Mamma che sfiga Pazienzamente Tipo qui All'entrata Proprio più o meno A metà Ad occhio Usiamo 10 Poi tipo Far finta Che Qui Tipo Qui Ma perché Oggi Voi blocchi Ce l'avete Contra di me No Basta Ecco Qui Una cosa Del genere No Dite che è un po' Esagerata Anche per me Allora E se tiriamo via Soltanto Questi Qui Ai lati Tipo Una cosa Del genere Anche Anche Questi Magari Una cosa Del genere Ci sta E ragazzi Sono riuscito A recuperare Praticamente Tutto Quanto Vedete Le ultime cose Sono rimaste La ma Adesso Vado a Riprenderle Il letto Finalmente Non sapete Quante cavolo Di volte Ho fatto La strada Era arrivato Mi ha fatto Fuori All'ultimo Finalmente Posso mettere Giù il letto Lo mettiamo In mezzo Così Non muoio Più Finalmente Qui adesso Scudo solo Adesso Posso anche Dirvi Aspettate Il secondo Vediamo Se riesco Ad uscire Ok Non riesco A muovermi Così Allora Mi muovo Così Che tra l'altro Due cosci Tra poco Ok ragazzi Io vi Do un salutone Lasciate like Commentate Iscrivetevi Se non siete ancora iscritti Noi ci vediamo Nel prossimo video Ah Prima di finire Il prossimo episodio Scrivetemi Se volete Che finisco la casa O metto il coso Dell'end Oppure faccio addirittura Tutti e due Quindi Ciao